E' un momento importante Allora, Josep Eise, eccezionalmente Perché naturalmente in caso di malaugurato per voi il gol del Siviglia ci sarebbe Il Baletto però ci fa un accenno di come festeggiano i gol E' un po' hard, te lo dico E' un po' hard Pronti? Via! Mamma mia! Quando sei in male a dolore Quando sei in male a suvela Quando sei in male a dolore Quando sei in male a dolore Quando sei in male a dolore Quando sei in male a suvela Quando sei in male a suvela Baila, 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 baila Va bene! Avete capito, avete capito direttore posso dire una cosa complimenti a Osepeis in particolare l'hai notato? no possiamo stringere dove? mira il pacco ma che pacco? ma per favore anche lei con tutto quel cosone in mezzo alle gambe posso dire una cosa? mira il pacco ma che mira? non sono stato bene ma stai femmo non sono stato bene da casa ci sono rimasti molto male cosa è successo? prego ma Peise se ne è andato così senza salutarci con il suo balletto e noi lo abbiamo richiamato José Peise perché magari vogliate anche salutare questo pareggio voi a Siviglia con il vostro tipico balletto è come se avessimo rinno allora possiamo mostrarlo? un momento quando sei Maria Dolore quando sei cheracli a me l'amore quando sei maia a su cabina quando sei chef arr combine a bocone quando sei hai lavorazione quando sei cheracli a me l'amore quando sei male a su bra quando sei cheracli a me l'amore Bene, Fili, fino all'Alecina, grazie!